Questa sera siamo ospiti a Caolonia di uno gruppo storico che nasce nel lontano 1987, il gruppo Alfa Time che si sta preparando per un grande evento venerdì sera all'Auditorium Frammartino di Caolonia. Si ripercorreranno anni importanti della musica italiana, gli anni 60, gli anni 70 e gli anni 80 e qualcosa anche, perché no, degli anni 90. Il gruppo Alfa Time è reduce anche di un'importante stagione estiva con diversi concerti nel comprensorio Locrideo e si preparano dunque a questo evento importantissimo. Siamo insieme ai componenti, incontriamo subito Ilario Murdocca che è la voce di questo gruppo Alfa Time che nasce negli anni 80. Allora Ilario, vi siete ritrovati, siete ripartiti con quali stimoli, rispetto a tanti tanti anni fa. L'entusiasmo è uguale a 30 anni fa, perché noi nell'87 abbiamo festeggiato 30 anni di attività, lasciato un po' tralasciato per motivi di lavoro o di salute, però siamo stati sempre uniti. È la passione che ci unisce, questo qua, è tutto qua. Questo repertorio, io ho detto anni 60, anni 70, anni 80, è la musica che tutto sommato non tramonta mai. No, no, la gente ci segue moltissimo perché gli piace tutte le nostre cover che facciamo nelle piazze, nei lidi, perché facciamo un po', ripercorriamo tutta la musica italiana dei grandi successi come i Poo, i Dic Dic, tanti successi italiani che hanno fatto la storia della musica italiana nostra. Chi non ha bisogno invece di presentazioni è Mimo Cavallaro, che io mi ritrovo qui a fianco a me, Mimo Cavallaro che collabora con l'Alfa Time e dobbiamo dire è sicuramente uno di quei gruppi che a Mimo Cavallaro gli sta a cuore particolarmente. Ma senz'altro, io adesso faccio tutt'altro genere di musica di quello che dice Lari, però fa parte della mia storia, della mia formazione, anni bellissimi in cui abbiamo creato gli Alfa Time, ma tanti gruppi che stavano in quel periodo nascendo nella Locride che sicuramente hanno contribuito a fare la storia di questo comprensorio. Sì, io lo ricordo sempre, questo mio percorso è con loro perché al di là delle serate che ci divertivamo c'era sempre di base una forte amicizia che rimane tutt'oggi insomma e quello è la base per divertirsi, per fare musica insieme al di là di ogni interesse che ci può essere. Mimo, cos'è cambiato rispetto a quasi 30 anni fa? Ma è cambiato tantissimo perché 30 anni fa quando noi abbiamo iniziato a fare le corride sul lungomare di Cavolonia Marina non c'era assolutamente, il paese era completamente diverso di quello che è oggi, oggi il paese è cambiato, è diventato più grande, la Marina è diventata più grande e oggi c'è un grande interesse verso la musica in genere ma soprattutto verso la musica popolare che è una forte identità del comprensorio, dei territori, la musica dei territori. E allora andiamo a conoscerli, gli Alfa Time da vicino iniziando dalla nostra destra dove incontriamo... Buonasera, io sono Ilario Lamberto, ex componente del gruppo Alfa Time che di tanto in tanto ci incontriamo quindi faccio parte pure io di questo famoso gruppo, bellissimo gruppo dove mi sono formato pure io oggi, pure se faccio diciamo delle cose particolari come solista, però mi piace incontrarmi con questi grandi amici che mi danno sempre stimolo per poter andare avanti. Poi ancora abbiamo musicista, batterista. Sono batterista, sono in sossoraggio, sono il primo batterista che sono arrivato fin qua con loro, sempre. Poi abbiamo detto di Mimmo Cavallaro, la voce Ilario Murdocca, ancora? Buonasera, io sono Pino Cosentino che sono il tastierista ufficiale diciamo degli Alfa Alfa Time, dopo la chiesa, è stata la mia prima palestra di formazione ed effettivamente siamo rimasti uniti fino ad oggi. Buonasera, sono Enzo Lucano, io sono il chitarrista degli Alfa Time.